Nato a Mantova, 27 anni appena compiuti, Jacopo Cernigoi è un centravanti di struttura ma con caratteristiche diverse da quelle di Ferrari. Ovvero più tecnico e incline a giocare per la squadra quando riceve palla e con la squadra quando si tratta di legare il gioco. Quest'anno 5 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. Nella primavera del Milan è stato allenato da Pippo Inzaghi. La curiosità, debutto da urlo nelle immagini, impreziosito da 4 gol proprio contro i Biancazzurri di Federico Giampaolo il 24 agosto 2013. Milan-Pescara 4-0. Nella partita di ritorno disputata a Cepagatti, Cernigoi realizzò la rete del pareggio 3-3. Quindi esperienza in D con Pro Sesto, Seregno e Virtus Verona. 17 centri nella stagione 2015-2016 e il doppio salto in B nel Vicenza l'anno successivo. 24 presenze e un gol. Tanta serie C con Pisa, Paganese, Rieti, 5 gol da gennaio a giugno 2019, compagni di reparto Gondo e Maestro, San Benedettese, 9 reti in campionato di cui 4 nel match interno con la Piacenza di Matteassi, Juve Stabia e appunto Seregno.